Saranno i due cellos, giovani violoncellisti, protagonisti della scena mondiale del momento, il 27 giugno, ad inaugurare la 17esima edizione di Armonia d'Arte Festival al Parco archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia, diretto da Chiara Giordano. Un evento assolutamente spettacolare, con due protagonisti assoluti della scena mondiale oggi, che stanno avviando un tour mondiale che si chiama Scord 2017, con la presentazione del nuovo disco girato con la London Symphony, sto parlando appunto di un fenomeno virale dei due cellos, e quindi per noi questo è davvero un orgoglio. Un'edizione completamente rinnovata, quella che è stata presentata dallo staff della Fondazione Armonia d'Arte, che pur mantenendo un profilo internazionale, dedicherà la giusta attenzione anche al territorio, ai giovani e ai percorsi dell'anima. Ci saranno degli omaggi, anche per esempio un omaggio a Natuzza, una cosa molto particolare, con un oratorio molto particolare, e poi anche come l'arte può aiutare i momenti di disagio per salute. In collaborazione con Londra, con una realtà all'attenzione anche della BBC, faremo anche un concerto con chi purtroppo ha perso le corde vocali. Sono cose molto particolari, naturalmente, che non rientrano nel cartellone principale, però pensiamo che un occhio a tutto questo sia doveroso da parte di chi crede nella cultura come strumento, sì di sviluppo, ma anche come sostegno delle individualità, delle spiritualità individuali. Rossella Galati per la CNews24